Ciao mondo! Oggi sono tornata con un nuovo video e in questo video farò i top e flop del mese di marzo sempre in collaborazione con Live Is Fashion ovviamente come sempre il canale e il video li trovate in descrizione andate a diventare tante belle streghette e siamo subito con il top per quanto riguarda i vestiti in questo mese ho indossato una maglia che ho adorato e che sto adorando in questo momento che è una maglia che mi avete visto in qualche video ed è appunto una maglietta manica 3 quarti grigia con gli uccelli è simile alla felpa del top e flop del mese scorso ma io la adoro, la stampa mi piace tantissimo e quindi ho preso anche la maglietta e la sto adorando in questo video perché c'è il giusto clima per metterla per quanto riguarda le scarpe finalmente mi sono decisa a iniziare a portare queste sono comodissime veramente, io non pensavo fossero così comode diciamo che sono belle alte, non sembra ma comunque fanno la loro figura sono alte però è comodo camminarci, ci sono andata a ballare e ci stanno, l'unica cosa non essendo più abituata mi facevano male i polpacci però comunque come camminata sono comodissime per quanto riguarda gli accessori ce li ho qua perché praticamente per tutto il mese ho rimesso i miei braccialetti perché mi sono andata a comprare appunto un Pandora sì me la sono autoregalata perché mi piaceva e quindi ho detto no da solo il braccialetto non va bene quindi gli ho messo tutti gli altri compagni, praticamente il Pandora che ho comprato io è questo qua con la coroncina poi ho rimesso il mio Tiffany e il mio Dodo e ho spostato la collana col cane al polso e ne ho tenuta solo una al collo e ecco qua i miei accessori di questo mese siamo al top per quanto riguarda la skin care c'è ancora lui, non mi ricordo se l'avevo messo il mese scorso o comunque c'è lui è il primer di Make Up For Ever Set 1 e appunto è fantastico vi tiene il trucco tutto 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 il giorno e vi opacizza la pelle che è una meraviglia se l'avete secca non è per voi però se l'avete grassa e che si lucida in fretta è fantastico infatti io lo sto finendo e voglio voglio assolutamente ricomprarlo però sono indecisa se comprare quello di Kat o utilizzare questo e altra cosa che mi sta salvando la vita perché veramente il mascara Better Than Sex è fantastico ma struccarlo è difficilissimo e mi sono arresa, ho comprato lo struccante The Aureal di Benefit e devo dire che è migliorata la situazione diciamo che riesco a struccarmi un po' meglio comunque lo struccante è validissimo potete veramente struccarvi gli occhi senza il minimo bruciore senza la minima irritazione pelle fantastica non diventa rossa né niente quindi io lo consiglio tanto Top Viso ovviamente la terra di Inglot avevo raccontato che Top non riuscivo ad andarlo a comprare quindi ho dovuto trovare un sostituto e devo dire che questa terra di Inglot nonostante sia un pochettino più scura è molto molto pigmentata è fantastica la tenuta è assurda la pigmentazione anche è veramente veramente molto molto buona cioè io ce l'ho su sempre negli ultimi video ce l'ho su anche in questo momento e è bellissima per il contouring fredda ho fatto benissimo a comprare questa qua nuova e non quella più chiara perché io mi trovo bene anche se è così scura per la mia pelle però è fantastica io amo amo questa cioè questo lilla mi piace un sacco questa qua appunto è la Strab of Genius di NYX e questo mese ho usato tantissimo questo lilla ma avendo fatto anche dei trucchi caldi sugli occhi ho usato tantissimo anche questo qua questo qua tantissimo misto con questo appunto questi due insieme per fare un illuminante caldo sono bellissimi fantastici poi tipo usavo molto questo al centro della palpebra però lo usavo bagnato con lo spray mattificante di NYX è una bomba è una bomba bellissima riflette tantissimo e appunto il trucco caldo lo facevo con l'ultima basic di Urban Decay è il mio top per quanto riguarda gli occhi e utilizzavo questi colori qua questo colore qua finalmente sono riuscita ad utilizzarlo ed è bellissimo adoro veramente io questo colore non l'ho mai visto da nessuna parte ciaoone grazie e boh è un aranciato molto molto strano bellissimo si sfuma da dio infatti credo che vi farò il tutorial del trucco così appunto caldo e altro top occhi cosa ve lo dico a fare è il mascara de Arial di Benefit perché lo adoro, lo amo e mi fa di quelle ciglia ultra mega super wow però 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 ho un altro top occhi che sono queste ciglia finte come sapete mi sto dando un po' le ciglia finte e queste sono una meraviglia cioè io le ho messe sono super folte super wow super mega esagerate sono fantastiche devo un pochettino tagliarle perché secondo me sono un pochettino troppo lunghe per me ma sono bellissime sono favolose infatti non vedo l'ora di rimetterle sono belle per quanto riguarda le labbra ho tre rossetti barra tinte da farvi vedere la prima è questa l'ingeri di NYX la utilizzo per i miei trucchi caldi insomma perché è un marroncino con sottotono abbastanza abbastanza caldo un marrone aranciato con questo sottotono caldo a me piace molto con il trucco perché si abbina alla perfezione all'ombretto che vi ho fatto vedere prima ma veramente guardate cioè si abbinano secondo me alla perfezione insieme sono fantastici poi per la serie i rossetti chiari anche se sono una cadaverina e quindi i rossetti chiari non si vedono su di me perché tipo sono quasi uguali al mio colore di incarnato ci sono questi due oltre alla tinta di LA Splash mi sono comprata un nuovo rossetto di MAC che è praticamente uguale credo di non averli mai sbocciati vicini ma sono praticamente quasi identici però mi piacciono troppo questa qua è la tinta di LA Splash che mi hanno dato il Cosmoprof ed è cryptic ed è questo marrone ultra chiaro bellissimo 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 strafreddo eccolo qua che poi qua sembra anche fin troppo scuro sulle labbra è molto molto più chiaro e poi c'è questo rossetto di MAC che è della nuova collezione si chiama Gritty Girl ed è appunto questo qua cioè come potete vedere sono quasi simili forse cryptic è un pochino un pochino più scuro ma io sto adorando entrambi cioè io li adoro 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 per quanto riguarda i flop e questo mese non ci sono ho provato alcune cose e devo dire che per quello che ho provato mi sono sempre trovata bene questo mese non mi hanno dato le azioni strane niente non c'è nessun flop quindi si rimanderà magari al prossimo mese visto tutto quello che devo provare di Sephora quindi come ogni mese anche questo video è finito io spero di esservi stata utile spero di avervi dato qualche consiglio ovviamente fatemi sapere i vostri top e i vostri flop del mese di febbraio cosa avete trovato di decente cosa avete trovato di così cattivo da salne alla larga e mi raccomando in infobox oltre al video e al canale di Fabiana trovate tutti 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 i miei social network dove potete cercarmi con GioGioMackup oppure direttamente il link in descrizione spolliciate se vi è piaciuto il video ed iscrivetevi al canale per non perdere i prossimi video io vi ringrazio tantissimo per la visualizzazione vi mando un bacione ciao ciao